A tutti un buon martedì, ci mettiamo in ascolto del Vangelo che anche oggi ci regala la liturgia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano, allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse, questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro, in verità io vi dico, voi che mi avete seguito quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Partirei per commentare questo testo da una costatazione che è importante, è la diretta prosecuzione del testo che abbiamo ascoltato ieri, il Giovane Ricco. Il Giovane Ricco vuole di più, si rende conto che ha messo ordine nella sua vita ma gli manca qualcosa, cosa devo fare per una vita eterna. E dicevamo ieri che vita eterna vuol dire una vita piena, una vita completa, una vita, usiamo uno slang giovanile, alla grande. E Gesù gli diceva, vendi tutti i tuoi averi, avrai un tesoro in cielo, così distribuendo poi i tuoi beni ai poveri e vieni e seguimi. Gli promette un tesoro in cielo e gli dice però che se tu hai questo tesoro in cielo, questo tesoro in cielo non è compatibile con tutti i tesori della terra. E sentiamo oggi lo scomento dei discepoli. I discepoli rimasero molto stupiti e quando si va a toccare il discorso delle ricchezze lo stupore nasce fino a quando c'è questa incompatibilità tra i tesori del cielo e i tesori della terra. Cioè, diciamolo fuori dai denti, quanto possiamo possedere? Posso avere qualcosa? Posso ottenermi qualcosa? Quanto? Quanto sta vivendo la povertà evangelica e sto vivendo davvero il desiderio invece di incontrare il Signore? Ho troppo! Attenzione, il Vangelo su questo è veramente spietato, no? La ricchezza non ti permette di abbandonare il tuo cuore nel Signore. Se tu hai tutto, hai sistemato tutti i tuoi problemi, sei assolutamente sazio di tutte le tue cose che ti servono. È difficile che tu riponga la tua fiducia nel Signore. La cosa più scontata è che tu vada a riporre le tue fiduce nel benessere, nelle tue ricchezze materiali, in tutto quello che hai costruito, no? Il Vangelo su questo è molto molto serio. Guarda che tutto quello che possiedi non è un problema possederlo, il problema è che ti prende il cuore e quando ti prende il cuore è difficile, non c'è spazio per tutto nel nostro cuore, non puoi avere tutto. E allora nasce una domanda, ma quanto posso avere? Proprio nulla. Se ho una casa sono contrario alla povertà evangelica e se possiedo qualcosina, è impressionante la regola di San Francesco, no? Quando Francesco dice al massimo i pantaloni e la tonaca, ma non di più deve possedere il fratto minore, perché altrimenti rischia che gli attacchi il cuore. Se me lo concedete, non banalizziamola troppo, no? Questa espressione, sì, Gesù diceva così, ma è un momento in cui è un po' esagerato. Proviamo a scontarla in tutta la sua serietà. Guarda che quello che possiedi rischia di prenderti il cuore e quando ti prendi il cuore non c'è più spazio per niente. Adesso mi insegnate, no? Non so se vi guardate un pochino attorno se ci guardiamo un po', ma non è uno dei motivi principali per cui litighiamo, per cui facciamo fuori le persone, per cui non ci parliamo più. Non sono le cose, non è la roba. E vedi che rischiano di prenderti il cuore e magari un fratello con cui hai vissuto tutta la vita, basta non gli guardi più, non ci parliamo più. Per la questione delle cose, è seria la questione delle cose e quando il nostro cuore è totalmente attaccato alle cose, noi non abbiamo più spazio per il Signore, ma non abbiamo più spazio per nulla, rischiamo veramente, no, di tirar fuori la parte peggiore di noi stessi. Quindi ecco, non banalizziamolo questa parola, ascoltiamola, no, in tutta anche la sua ruvidità. E allora non impressionano a questo fatto che i discepoli rimangono molto stupiti e dicevano, ma allora chi si può salvare? Perché chi può dire assolutamente, basta, è un distacco totale da tutte le cose. Ed è forte, no, la loro espressione, ma allora chi può essere salvato? Cioè se io devo distaccarmi da tutto per appartenere al Signore, ma chi può essere salvato? Perché quasi che tu puoi attaccare il tuo cuore a una piccolissima cosa. Io ho visto comunità religiose litigare per la camera più esposta al sole, gente che ha promesso di non possedere nulla, ma che va a litigare perché però il superiore ha assegnato quella stanza in cui c'è mezz'ora di più di sole al giorno, oppure perché quello ha quell'incarico che io non ho. Basta un nulla perché il nostro cuore gli si attacchi. E allora è seria, no, questa cosa che dicono i discepoli, ma allora chi si può salvare? Ma chi c'è su questa terra che ha un cuore totalmente libero e unica sua ricchezza è il Signore? Ma è difficilissimo, no? E tra l'altro c'è una cosa che mi sento un po' di dirvi, questa immagine del Signore, no, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Questa espressione qua, se andiamo a vedere un po' di commenti, io ho visto almeno un paio di commenti che hanno cercato un po' di semplificarla, perché sembra strano, no? Mette presente la cruna di un ago, pezzettino che si mette il filo, come fa a passarci un cammello, è assolutamente impossibile, no? È un paradosso. E allora qualche commentatore lungo la storia ha detto, no, ma non è proprio un paradosso, in realtà la cruna del lago sarebbe il nome che aveva una porta di Gerusalemme particolarmente stretta, dove magari ci passavi a piedi, oppure un cammello ci passava abbassando la testa, ma non ci potevi passare col cammello andando a una marcia normale. In realtà non c'è nessuna evidenza che sia mai esistita una porta di Gerusalemme che si chiamasse cruna del lago. Oppure un'altra cosa interessante è che ago, scusate, cavo, la corda, no? E cammello in greco si dicono la stessa cosa. Allora non è che si dice proprio un cammello, ma si intende un cavo, un filo particolarmente grosso. In realtà anche questo non abbiamo nessuna evidenza, no? Che poi il testo sia stato cambiato. Perché questi due esempi? Perché noi ci proviamo, no? Ci proviamo, a rendere compatibile la ricchezza con l'appartenenza al Regno dei Cieli. Persino l'esegesi ci ha provato, no? Ma non è così impossibile. Invece Gesù usa proprio un paradosso per dire, guarda che se tuo cuore è attaccato a qualcosa, non c'è spazio per il Regno dei Cieli. E qual è la risposta che Gesù dà di fronte allo sgomento dei discepoli? Lui dice, questo è impossibile agli uomini, ma è tutto possibile. Certo che se tu pensi che devi semplicemente lasciare tutto, ma ti dimentichi del tesoro in cielo, cioè ti dimentichi che la parte migliore la fa il Signore, tu non lasci tutto per uno sforzo di ascesi, tu lasci tutto perché è il Signore che ti dà tutto. E questa è la chiave di volta del problema. Se tu guardi solo le tue azioni, ma non ce la fai a far nulla, ma se tu invece hai il cuore rivolto alla promessa di Dio, allora sei in grado, no? Pian piano, di vivere un'appartenenza al Signore. Lasciatemela dire così, Francesco d'Assisi era tutt'altro che povero, ma è uno che ha incontrato che nel Signore c'è la ricchezza, e allora le altre cose mi interessano di meno. Certo che se tu pensi che Dio ti premierà, se tu hai fatto tanta tanta fatica, non ce la fai impossibile per gli uomini, ma se invece il tuo sguardo cambia ed è capace di cogliere la grazia che il Signore dà, allora fai delle robe enormi. Tutti i santi, tutti coloro che hanno fatto cose enormi nella loro vita, è perché a un certo punto ha smesso di guardare la loro piccolezza, le loro fatiche, e hanno guardato la grandezza di Dio, al dono che ti fa Dio. E allora questo fa diventare la tua vita sempre più generosa, perché le rinunce che fai sono rinunce gioiose. Signore, sì, è vero, lascio perdere qualcosa nella vita, ma perché è talmente grande il dono che mi hai fatto? Se altrimenti la tua vita magari è davvero una vita generosa, ma è sempre rivolta a che bravo che sono, guarda che rinunce che ho fatto, guarda che prima o poi arrivo indietro tutto e anche con gli interessi. Povera comunità di un prete che è totalmente rivolto a quello che lui ha dovuto rinunciare per poter fare il prete. Pensa che non mi sono neanche sposato per fare il prete, pensa che avevo una grandissima carriera e ho rinunciato per fare il prete. E vai a fargliela pagare a tutti se il tuo sguardo è rivolto alle tue rinunce. Ma invece guarda quello che hai guadagnato, guarda quello che il Signore ti ha dato, e allora non sarai un perenne risentito. In questo si intuisce anche un po' l'ambiguità dell'espressione di Pietro. Signore ne abbiamo lasciato tutto e cosa ne avremo o no? Ecco che il Signore... Pietro dice guarda che ne abbiamo fatto delle rinunce generose. Il Signore lo ascolta e dice è vero Pietro davvero o no? Avete rinunciato a tante cose, ma ricordati che non c'è nessuno che ha lasciato e non ha ricevuto il centuplo, lì deve essere il tuo sguardo. Se il tuo sguardo invece è totalmente rivolto a quanto sei stato bravo tu, non esci più, diventi un risentito, diventi uno che sta lì a guardare il centimetro, cosa mi spetta, cosa dovrei ricevere dalla Chiesa, dagli altri, da tutte le persone. È impossibile, no? Allora per gli uomini un distacco totale. È possibile nella misura in cui noi riusciamo a fare un'opera di conversione. Non guardo più le mie azioni e le rinunce, ma guardo al dono di Dio. E allora se a volte davvero devo rinunciare a qualcosa, sarà solo una restituzione grata nella nostra vita. Grazie per aver ascoltato questo momento di meditazione e auguro tutti un buon martedì.